e benvenuti in questo nuovo video dove vi mostro le canzoni che utilizzo di sottofondo nei miei video però voglio anche dirvi che non tutte quelle che vi mostrerò oggi le utilizzate nei miei video alcune si o forse ve ne mostrerò altre che potranno anche piacervi però prima di iniziare come sempre vi chiedo di lasciare un bel pollicione su, iscrivetevi al canale e iniziamo ok questo è il canale le canzoni si possono trovarle su youtube il canale si chiama no copyright sound è questo qua è un canale di canzoni che non danno il copyright come si potrà capire dal titolo guarda qua fanno canzoni una molto bella è questa che ho utilizzato anche nei miei ultimi video si chiama gphike questa è questo è il canale Ah, comunque questa è una delle proprie mie preferite. Poi c'è questa, che è molto bella. Molto bella anche questa, questa è una delle proprie mie preferite. Molto bella, questa è una delle proprie mie preferite. E' bellissima questa. Poi c'è una delle proprie mie preferite. Ah, comunque di queste vi lascio solo il link del canale, o potete scrivere nella barra di ricerca no copyright sound. Queste non ve le lascio perché ci sono un sacco di canzoni, poi se scrivete JPH, no JPH, se non mi ricordavo più il nome, potete trovare tutte queste canzoni di seguito. Ok, ora ve la rimetto e poi ascoltiamo un'altra canzone. Ok, ora ve la rimetto. Ok, può bastare. Questa è bellissima. Poi non so se questa l'ho già usata. Aspettate. Sì, ho anche questa l'esata nel mio nuovo video. Questa è un'altra canzone. Questa è un'altra canzone. Questa c'è un po' meno delle altre. Queste sono proprio quelle che mi piacciono. Adesso ve ne faccio sentire un'altra. Ah, comunque ce ne sono anche molte altre. Non ve le faccio sentire tutte. Ve le faccio sentire altre due. Ora vi faccio sentire sempre il mio coperete sound. Carton, on e on. l'ho utilizzato un po' di youtuber. Ah, jph l'hanno utilizzato anche un po' di youtuber. Questa. Ah, jph l'hanno utilizzato un po' di youtuber. Allora. Questa. Allora. I portare nel settore. Questa. E portare nel settore. Questa. 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 balla anche questa ora vi faccio sentire l'ultimo pezzettino che è bello anche questo diciamo che questa è la mia seconda preferita perché la prima è jph ora vi faccio sentire anche questa che credo di averla utilizzata questa l'ho già ascoltata ma non so se l'ho messa nell'ultimo video perché nell'ultimo video ho fatto un mix di canzoni ora ho visto che questa ha il segno rosso il segno rosso vuol dire che l'ho ascoltata tutta no questa non l'ho ascoltata non me la ricordo ah bevi ragazzi credo di non aver ascoltate altre no ah comunque il video può finire anche qua allora in descrizione trovate il link del canale con tutte le vostre musichette per i video di sottofondo senza copyright qua ce ne sono veramente un sacco di tutti i gusti e ascoltiamo questa va dai non mi entusiasma tanto quelle là sono proprio le mie preferite ah comunque vi ripeto il canale lo trovate in descrizione il link del canale lo trovate in descrizione allora per questo video lasciate un bel pollice su iscrivetevi al canale e ciao a tutti ciao a tutti